Una petizione partita spontaneamente da alcuni tifosi con l'ausilio di alcuni professionisti foggiani preannunciata nei giorni scorsi, ufficialmente cominciata stamane, lanciata attraverso la piattaforma online change.org. Il calcio foggia in serie B per salvare l'immagine dello sport è stata titolata così l'iniziativa che non ha paternità ma che fu già anticipata dall'avvocato Vincenzo De Michele. Una petizione indirizzata al presidente della FIGC Gabriele Gravina in cui si chiede di tenere conto di norme ma anche delle ingiustizie patite dal foggia in termini di designazioni e di scelte arbitrali nella finale con l'ecco, soprattutto in quella di andata dove fu chiamato a dirigere la sfida il signor Bonacina, nativo proprio di Lecco, anche se appartenente alla sezione della vicinissima Bergamo. Si fa poi riferimento alla perentorietà che non darebbe scampo a Lecco, tagliato fuori dai tempi e dalla mancanza di rispetto delle norme per i criteri infrastrutturali sportivi. Una lunga missiva che ha lo scopo di alzare l'attenzione su quanto il foggia ha dovuto subire nei giorni scorsi e rischia di subire ancora qualora al danno dovesse aggiungersi la beffa. Già centinaia le adesioni al pronti via per un'iniziativa che va detto è scollata dal club, che invece intende percorrere quelle che sono le vie offerte dalla giustizia sportiva ed eventualmente all'occorrenza di quella ordinaria. Quello stesso club che nei prossimi giorni sarà anche chiamato ad approntare la programmazione della nuova stagione che in casa foggia al momento, perlomeno apparentemente, non è ancora partita.